Che cos'è che rende un comportamento manipolativo? Cioè una persona subisce una svalutazione, una critica, il silenzio punitivo e reagisce in un modo per cui diventa vittima di manipolazione. Se reagisse in un altro modo non sarebbe vittima di manipolazione. Non si renderebbe neppure conto che quello è un tentativo di manipolazione. Penserebbe soltanto che la persona che davanti ha sbagliato, ha frainteso oppure è emotivamente immatura ma non penserebbe mi sta manipolando. Poi qualcuno che magari è un po' più scafato e già passato da queste cose direbbe ma assomiglia a un tentativo di manipolazione questo. Ma non sarebbe il focus dell'attenzione, non sarebbe il centro della questione. Se non ci fosse un certo tipo di reazione nella persona che subisce la manipolazione non ci sarebbe in niente nessuna manipolazione. Questo è certo, è garantito. Qual è questo comportamento che ti porta quindi a subire un atteggiamento come manipolatorio? Ecco, immaginiamo alcuni contesti perché ovviamente non è generalizzabile a tutti i contesti. ce ne sono alcuni, per esempio il silenzio punitivo, il trattamento del silenzio, no? Il silenzio punitivo. Oppure la svalutazione, ti viene svalutato per una sciocchezza. Oppure vieni criticato, messo in discussione per qualche cosa, per un piccolo comportamento che viene generalizzato ad esempio della tua personalità disfunzionale. oppure fai una piccola cosa che fondamentalmente non c'entra niente, è di poco conto e viene interpretata come una cosa di incredibile importanza, emblematica di un tuo atteggiamento. Cose di questo tipo. Cosa fai in quel momento quando subisci questo comportamento? Cosa fai che rende queste cose che ho appena descritto manipolative? Ti chiedi se ha ragione. Ti chiedi se ha ragione e comincia a pensare ma vediamo un po', ma perché mi dice questo? Qual è il motivo per cui rammenta questa cosa? Ma forse ha ragione, forse no, ma davvero ho sbagliato? E ti giustifichi. Alle volte prima scatta la giustificazione in automatico, oramai hai appreso a tenere il capo chino e altre volte invece scatta prima il pensiero, a volte contemporaneamente. Mentre pensi a che cosa potresti aver fatto, ti dici scusa, no, ma io in realtà intendevo, volevo. Ecco, e cominci ad andare dietro a questo pseudo delirio che ti viene proposto come argomento di conversazione. Ecco, la questione è che ti fai queste domande. Perché ti fai queste domande? Perché non riconosci l'intento manipolatorio in quel comportamento. Se tu riconoscessi l'intento manipolatorio in quel comportamento e quindi conoscessi le tecniche di manipolazione e le strategie contro manipolatorie come quelle che insegno nei corsi, ecco che tu diresti, aspetta, probabilmente questa situazione non è così come sono portato, portata a vederla. Ma probabilmente c'è dell'altro e cominceresti a farti delle domande diverse, cominceresti a dire ma per quale motivo esagera questa cosa? Per quale motivo ha queste reazioni così eccessive? Prova a immaginare una di queste situazioni che hai vissuto, perché tanto se sei arrivato al minuto 4 di questo video vuol dire che questa cosa ti interessa perché o ti ha riguardato, o ti riguarda, o perché riguarda qualcuno a cui vuoi bene, o che conosci. Quindi prova a pensare a una delle situazioni che ho descritto e anziché farti queste domande, anziché giustificarti, pensi ma che reazione eccessiva questa persona avrebbe bisogno di un po' di psicoterapia, mamma mia che immaturità emotiva, che bandiera rossa. Capisci? Neanche penseresti alla manipolazione, entreresti in tutta un'altra dinamica. Ma il fatto di non riconoscere l'intento manipolatorio, il fatto di non riconoscere un atteggiamento manipolativo dall'altra parte, ti porta a interpretare quelle parole come se ci fosse una bontà di fondo. Ma se tu ripensi alle conversazioni che hai avuto tante volte con certe persone, con un manipolatore, la sua bontà di fondo si riassume in ascolto per controbattere, parlo per avere ragione. Quindi questa bontà di fondo non c'è. Ecco, questo è il comportamento di base. Ovviamente ci si arriva, si raggiunge questo obiettivo facendo un lavoro anche sulle interazioni, cioè proprio su quelle che sono le interazioni all'interno di una relazione e anche conoscendo delle tecniche di comunicazione. Fammi sapere nei commenti se ti è sembrato interessante.